Buona! 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 Levate mano che lo vuoi contare! Buona mano! Una, due, tre, li, quattro, cinque, sette, otto, 3500,000! Mi permiso! Che, tanca, tanca, se ha comodato! Hola, hermosa! Hola, 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 hola! Y get up a Mogli! Estan listos para el show? Si! Hacemos una ola de acá, para allá, arriba tambien! Silva tomando, Mogli, ser fea la ola! Una, due y, tre, li, quattro! Excelente! Ahora de allá, para acá! Silva tomando! Una, due y... Y cuando digo... Una, due y tre, li, quattro! Estan listos para el show? Si! Planta baja, solo planta baja! Se querer emocionar? Sì! Primer piso, solo il primo piso. Querer cantar? Segundo piso, solo il secondo piso. Querer bailar? Sì! Todo il mondo, se querer divertir? Sì! No, no, non lo scusco, se querer divertir? Sì! Ora sta fattando, se querer divertir? Sì! 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 nanananana nanananana Nike! Gordo, mi amor! E' il terzo messaggio che ti deixo! Resulta che stava nel shopping facendo un par di compras e il remix che mi esperava fuori se aburrò e si fuè. E io, viste? Empece a caminar e arrivai a un luogo così come... Non sono tutto devastato, è un asco. Quando escucha questo messaggio chiamami. Grazie, sì Malvina, hai tal crisi. E' ben vivi e che ti hanno portato un appellido che non ci man li faccio. E che non sappiamo che lomirò divertito è seguir come non vuoi e non mi farò. E un uniforme va formato, Alla prossima 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 Alla prossima